Come si può interagire con le persone del gruppo? Sento una sorta di forza che mi trasporta e pervade tutto il mio corpo e di conseguenza mi fa muovere e spero che questo possa arrivare anche a tutte le altre persone e di conseguenza capire magari quello che io ho provato in quel momento. Ballando secondo me si riescono ad esprimere delle cose che a parole magari risulta più difficile in base all'ambientazione, al contesto e quindi mi sento più a mio agio parlando con il corpo e muovendo. La danza è l'espressione dell'anima, l'espressione di un nostro stato interiore e quindi penso che sia l'espressione più giusta e molto fondamentale invece che stare a riproporre sempre magari stessi pezzi, stesse cellule di movimento. La varietà è una cosa importante nella danza.